Mister Massimiliano Nardecchio al termine di Legnago Salos Provercelli 0-1 Mister, non era una partita facile, la Pro ha creato diverse occasioni colpendo per alto tre legni e è riuscita a vincere grazie al gol di Panico, come commenta la sfida di oggi? Sì, è una partita molto difficile perché era una partita da ultima spiaggia per il Legnago e quindi noi lo sapevamo e siamo venuti qui interpretando una gara facendo una grandissima interpretazione della gara e al primo tempo siamo stati sempre in controllo della situazione abbiamo sfiorato il gol con il palo di Panico e poi anche sotto l'aspetto del gioco secondo me abbiamo fatto bene sia a secondo tempo e meglio ancora, il primo tempo è meglio ancora a secondo tempo sfiorando poi più volte il gol, prendendo ancora due pali, una traversa, un palo quindi insomma siamo molto soddisfatti e molto contenti Si parla molto spesso del gruppo, è stata molto bella la dedica da parte della squadra Simone Emanuello durante il gol Bella, io mi unisco a questa dedica e forza Soccio che tornerai presto con noi Adesso è una settimana di lavoro e poi si torna in campo Sì, finalmente è una settimana normale dove speriamo di recuperare Bunino e quindi siamo più tranquilli perché per noi era molto importante questa partita abbiamo messo un'altra pietra e andiamo avanti così Grazie